Allora, buongiorno a tutti, sono Elio Romano e sono ricercatore del CREA di Treviglio. Il CREA è il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, che infatti appunto si chiama CREA, e in particolare io lavoro come ricercatore presso il Centro di Ricerca, Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari di Treviglio. Storicamente il nostro Centro di Treviglio si chiamava ISMA, Istituto Sperimentale per la Meccanica Agraria. Successivamente si è trasformato, grazie a un'unificazione che è avvenuta tra gli istituti ministeriali, in CRA, quindi Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, e ancora dopo in CREA, con l'Unione con l'INEA, che è la parte economica della ricerca. In verità l'Istituto di Treviglio era nato nel 1920 a Milano, che serviva come punto di trasmissione delle informazioni relative alla meccanica al mondo dell'agricoltura. Nel 1957 si trasferisce a Treviglio e, ancora di più, diffonde la conoscenza della meccanica nel territorio. Poi dal 1990 al 2017 appunto sono avvenute diverse riforme all'interno dell'ente, che ha portato a una formazione di 12 centri di ricerca che si occupano di tutti gli aspetti dell'agricoltura. Il nostro centro, che appunto si chiama Centro di Ricerca, Ingegneria e Trasformazione Agroalimentari, ha sei sedi, che sono queste rappresentate nella slide, e il nostro centro di Treviglio e di Monterotondo sono quelle che si sono sempre occupate di meccanica, meccanizzazione, o ancora più in generale di ingegneria agraria, e si sono unite in centro con queste altre strutture di Torino, di Milano, di Pescara e di Roma per un collegamento agli aspetti della tecnologia della trasformazione o tecnologie alimentari. Per questo motivo il centro ha preso la denominazione di Centro di Ricerca, Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari. Il centro in particolare di Treviglio, quindi che si trova bene o male tra Bergamo e Milano, è formato da una superficie aziendale di circa 15 ettari, in cui sono innestate due piste di prova di trattrici e macchine operatrici e alcuni padiglioni dedicati ad aspetti appunto ingegneristici della meccanizzazione o della meccanica in generale, come per esempio prove di ribaltamento, prove relative alle trazioni, prove di consumo su pista, prove relative alle vibrazioni all'operatore. Nel tempo quindi si è delineato uno studio in particolare sull'attenzione dell'interfaccia tra la macchina e l'uomo, sia da un punto di vista di vibrazioni, sia di rumori e comunque in generale di comfort dell'operatore. Ma negli ultimi 10-15 anni, oltre alla relazione tra macchina e uomo, è stata osservata la relazione tra macchina e ambiente. E quindi ci siamo spostati sempre di più sull'attenzione nei confronti della sostenibilità delle operazioni agricole attraverso l'agricoltura di precisione. Quindi una quindicina d'anni fa tutto il parco macchine è stato rinnovato, nel tempo, nei vari anni, ogni parte è stata curata ed è stata trasformata e allora da lì è nata la necessità di curare gli aspetti del trasferimento delle mappe di prescrizione, che ora vedremo cosa sono e in particolare la lezione di oggi è dedicata a un'osservazione dei punti critici che possono nascere nella preparazione delle mappe di prescrizione, perché l'agricoltura di precisione si basa sulla possibilità di distribuire un input, che può essere un concime, un principio attivo o anche una dose di semina differente, in funzione di mappe appunto di prescrizione. Cos'è quindi una mappa di prescrizione? E quali sono appunto le problematiche che nascono nella preparazione delle mappe? La mappa di prescrizione sono rappresentazioni elaborate da dati di diversa natura ed origine. Questa è una delle definizioni che si trova su testi o su internet, così, e nasconde già all'inizio di questa definizione il primo punto critico, è il fatto che è chiaro che sono elaborazioni grafiche, ma proprio per il fatto che nascono da dati di diversa natura ed origine, creano delle difficoltà nel momento della sovrapposizione e della fusione, si dice. Questo perché? Perché appunto diversa natura vuol dire che provengono da tipologie diverse di dati. Per esempio, chi conosce un po' i sistemi di elaborazione di dati georeferenziati, sa che queste mappe, queste parti di mappe, possono essere gestite con dei vettori, che sono dei confini con all'interno un riempimento con un unico valore, oppure altri tipi di dati possono essere di tipo immagine, e quindi formati da tanti piccoli tasselli, che sono i pixel, che formano l'intera immagine. I due tipi di dati, appunto, che siano di tipo vettoriale o che siano di tipo immagine, non interloquiscono molto facilmente, quindi l'elaborazione e il processamento di questi tipi di dati a volte non è semplicissima. L'origine, anch'essa, è differente, perché l'origine dei dati potrebbe provenire o da un campionamento a terra, e quindi dati di tipo puntuale potrebbero essere dei punti e quindi dei vettori, oppure dei dati provenienti da immagini dall'alto, come potrebbe essere un'immagine da drone o un'immagine satellitare. Questa fusione è necessaria perché si devono riuscire ad individuare le aree omogenee per la distribuzione rateovariabile, come dicevo. Quindi uno spandiconcime rateovariabile lavorerà grazie a una mappa che è stata preparata prima dalla fusione di più informazioni. Questo perché si cerca di utilizzare l'agricoltura di precisione anche con uno scopo di riduzione dell'impatto ambientale e di sostenibilità ambientale. Grazie alla sovrapposizione di queste informazioni si cerca quindi di ottenere, come dicevo, delle aree omogenee tra di loro differenti, dove stabilire dosi differenti di input, che potrebbe essere per esempio appunto la concimazione. Questa in alto a destra, per esempio, è una mappa di prescrizione che abbiamo preparato per uno dei campi che abbiamo presso l'Istituto di Treviglio e dove sono ben individuabili tre aree omogenee dove distribuire tre tipologie o tre dosi, per esempio, di input. Tutto questo fa capo a quello che è la definizione più generale di agricoltura di precisione, che è quella di fare la cosa giusta, farla nel momento giusto e farla nel modo giusto, che è quello che ci si augura un po' per tutte le cose. Però in generale e in particolare nell'agricoltura di precisione cercare di fare la cosa giusta, quindi per esempio intercettare il tipo di fertilizzante più corretto, farlo nel momento giusto, quindi tener conto anche di informazioni ambientali e infine farla nel modo giusto, cioè significa magari non distribuire quella quantità di concime in maniera uniforme per tutto il campo, ma avere consapevolezza della variabilità che è presente sul campo e distribuire solo dove serve oppure in maggiore quantità dove la coltura lo richiede. Vediamo quindi rapidamente le fonti informative che possono costruire come dei pezzi di puzzle e la mappa di prescrizione, chi partecipa. E' chiaro che ognuna di queste fonti di cui parlerò può partecipare in maniera autonoma, ognuna di esse già porta un carico importante di informazioni che può essere tradotto in mappe di prescrizione. Però vedremo anche come l'integrazione tra più fonti informative impreziosisce e rende più corrispondente al vero la mappa di prescrizione che prepariamo. Quindi partendo dal terreno, una delle prime informazioni che potremmo avere, non economicissima però ha una lettura abbastanza stabile nel tempo, quindi si può riutilizzare per più anni, è la mappatura geoelettrica, cioè informazioni della trasmissione del campo elettrico nel terreno che in qualche maniera rappresenta la tipologia di tessitura presente sulla superficie o a diverse profondità. Un altro tipo salendo sulla superficie, sulla coltura, un altro tipo di lettura può essere quella da sensori che possono essere imbarcati sulla trattrice, sul tettuccio o nella parte anteriore e leggono delle bande spettrali, cioè come delle bande di colori che interpretano la variabilità cromatica sulla superficie della coltura. La stessa cosa, a un livello più alto, la può rendere il drone. Il drone in sé, se non ha attaccato con sé una fotocamera multispettrale, sarebbe soltanto un giocattolo che vola, mentre invece i droni applicati in agricoltura hanno montato di sotto una fotocamera multispettrale che è capace di leggere delle bande importanti dello spettro elettromagnetico la cui composizione crea degli indici, come per esempio avrete sentito parlare dell'NPVI, degli indici che rappresentano in qualche modo il benessere della coltura. In maniera analoga, questi stessi indici sono ottenibili anche da ancor più in alto dai satelliti, e seppur più lontani sono comunque più raggiungibili in quanto non costosi, quindi accessibili con un download delle mappe e interpretazione delle mappe stesse. E' chiaro che alla fine poi della coltura possiamo avere anche l'informazione relativa alla mappa delle rese, quindi al raccolto, se il raccolto è stato effettuato con dei mezzi geolocalizzati. Infine, ma non di minore importanza, anche il contributo storico delle informazioni che ha il proprietario, comunque chi conduce il terreno, chi conduce la coltura, perché queste informazioni sono assodate, sono sempre utilizzate dall'agricoltore e è necessario però renderle operative per una macchina che ha la possibilità di distribuire in maniera rate variabile. L'agricoltore da solo non potrebbe scegliere di distribuire in maniera diversificata, quindi anche per chi sa già e chi conosce già la variabilità del proprio terreno è necessario una mappa che traduca queste informazioni in maniera informatica e quindi in maniera operabile dalle macchine operatrici. Quindi rivediamo un attimo quali sono questi metodi che possono acquisire informazioni, sono appunto, abbiamo detto, le mappe geoelettriche. Noi abbiamo utilizzato soprattutto questo sistema trainato dal Quad, che è un carrello in cui un asse invia e immette un campo elettrico o elettromagnetico nel terreno e gli altri assi leggono, quindi a diverse profondità, la trasmissione di questa elettricità. C'è un'analogia con il contenuto idrico, per cui è molto probabile che un terreno che trasmette molto più facilmente il campo elettrico è probabile che sia più umido e quindi è probabile che abbia un contenuto maggiore di argilla. Dall'altro lato, un terreno un po' più asciutto è probabile che abbia perso l'acqua proprio perché ha un maggior contenuto di sabbia. Per questo motivo questi tipi di indagini si conducono soprattutto quando un terreno non è né troppo asciutto né troppo umido. Se fosse troppo umido si annullerebbe la differenza all'interno del campo, se fosse troppo asciutto non si potrebbero leggere le trasmissioni anche delle parti più argillose. Quando per esempio nel 2014 abbiamo iniziato a lavorare con secondo, cioè gestendo l'azienda con agricoltura di precisione, ci siamo accorti che il terreno aveva una certa variabilità. Come questo terreno, per esempio, si nota che ha una zona un po' più sofferente in questa parte qua. Allora abbiamo voluto applicare subito questi metodi di indagine geoelettrica. Ci siamo accorti che in verità la variabilità nel terreno è molto maggiore di quella che è percepibile dall'uomo. Ed è vero che alcune parti, appunto queste e altre, che a occhio nudo si vedevano più indietro, più lente nella crescita, avevano una base di verità, quindi una parte estremamente drenante, che quindi perdeva la fertilizzazione data, perdeva l'acqua, soffriva nei momenti di maggiore siccità. Però comunque era presente in tutto il campo una variabilità da gestire. Questa variabilità è stata poi sottoposta ad analisi, quindi mirata, osservando in particolare le parti che risultavano differenti tra di loro. E andando indietro nel tempo ci si è accorti che la variabilità è data anche da una storia, da una memoria che ha il terreno a causa, per esempio, delle successioni culturali che sono avvenute sul campo. Questo campo, per esempio, era un mosaico di coltivazioni e addirittura in questa parte, in cui sembra che ci sia un taglio, era presente appunto negli anni 50 un fosso di drenaggio, quindi è rimasto, pur essendo ricoperto ormai da un terreno unico all'interno della pista di prova dei trattori, comunque un taglio dal precedente fosso di drenaggio o di rivo. Altre appunto fonti, come dicevo, andando verso l'alto sono i sensori multispettrali applicati o alla trattrice oppure ai droni, o ancora più lontano, come dicevo, anche dai satelliti. Il limite dei satelliti è la risoluzione, che attualmente è per alcune bande dello spettro di 10 metri per 10 metri. Questo è un altro dei punti critici nell'elaborazione delle mappe di prescrizione, perché dovendo sovrapporre più strati informativi, il pixel limite è quello a minore risoluzione. Quindi se io avessi dei dati da drone, e in genere i dati da drone hanno una risoluzione centimetrica, se dovessi abbinare una mappa da drone con una mappa satellitare, perderei tantissime informazioni, dovrei mediare molte informazioni centimetriche, riconducendole a quelle da satellite. Anche risoluzioni non tanto alte sono quelle della resa, perché sono dipendenti dalla larghezza di lavoro comunque della macchina che raccoglie, in questo caso una trincia che raccoglieva e che aveva la possibilità anche di valutare l'umidità e il contenuto proteico della sostanza che attraversava e che raccoglieva e che attraversava quindi il processo. Nella preparazione delle mappe di prescrizione poi possono aggiungersi tutti i tipi di mappe che possiamo pensare e che possono dare delle informazioni, per esempio le mappe delle patologie, se andiamo in campo e raccogliamo delle informazioni sulla presenza o assenza o la percentuale di patologia, possiamo realizzare delle mappe patologiche, oppure mappe fenologiche, lì dove per esempio una parte di coltura comincia prima di un'altra alcuni stadi fenologici. Anche molto utili possono essere le mappe della presenza della biomassa infestante, quindi registrare prima di un trattamento per esempio le zone particolarmente colpite da biomassa infestante. Un altro tipo di informazioni che abbiamo aggiunto presso i campi di Treviglio è stato quello dei sensori posti a terra che leggono la conducibilità elettrica anch'essi, quindi non un carrello che legge in continuo, ma dei punti dislocati in maniera regolare a formare una griglia. Questo ha permesso di ottenere questo tipo di mappe bidimensionali che mostrano come in effetti è vero che si distribuisce una certa variabilità, ma questa variabilità nel tempo cambia. Questo per esempio è un fenomeno meteorologico, una pioggia. Quindi quando ha piovuto, è una registrazione di circa due ore, ci sono delle zone particolarmente drenanti, altre invece più lente nel percolare. È una cosa analoga, l'abbiamo ottenuta durante un'irrigazione come in idroora, si vede come il momento in cui arriva l'acqua aumenta la impermeabilità del terreno, perché l'impermeabilità è letta da due sensori posti a due diverse profondità, per cui all'inizio il primo sensore viene invaso totalmente dall'acqua e poi pian piano si ha la percolazione dell'acqua. Nel campo non tutta la superficie percola alla stessa maniera, proprio perché ci sono delle differenze in termini di tessitura e anche di scheletro. Quindi possiamo dire che la mappa di prescrizione è una sintesi delle informazioni del suolo, per esempio sulla conoscibilità, delle caratteristiche del terreno, della cultura, per quanto riguarda lo storico delle produzioni, gli indici vari, spettrali e NDVI, ma ce ne sono veramente tantissimi, e dello stato quindi in generale della cultura, senza dimenticare l'andamento ambientale, quindi l'inserimento del suolo, della cultura, ma anche dell'ambiente. Quindi l'insieme di tutte queste informazioni devono permettere di ottenere un'unica mappa da fornire poi alla macchina per la distribuzione ratovariabile. Quindi l'albero decisionale nella preparazione delle mappe di prescrizione può essere inteso in questo modo. Avendo una superficie agraria io posso avere un'unica fonte informativa, questo per esempio è quello che accade quando io ho soltanto la fonte del raccolto dell'anno precedente, cioè se è accaduta una mappatura della produzione, posso in quel caso dalla mappatura stessa ottenere una mappa di prescrizione, secondo il concetto per cui lì dove ho prodotto di più probabilmente ho asportato di più, lì dove ho prodotto di meno, ho asportato di meno e quindi compenso le carenze generate da questa asportazione della cultura precedente. Ma si può vedere anche in un altro modo, potrei anche intercettare delle zone che normalmente sono più fertili, perché hanno una tessitura, hanno una conformazione più facilmente sfruttabili dalle colture. E altre zone invece che magari per o per presenza di scheletro, per problemi negli strati sottostanti, possono invece creare un ambiente meno favorevole alla coltivazione. Allora in quel caso potrei anche rinunciare a quelle parti normalmente sofferenti e valorizzare la mia concimazione. E' chiaro che poi queste mappe possono essere anche ridisegnate, rimodulate dall'utente, quindi anche con la storia del campo si possono integrare delle informazioni. Dall'altro lato posso io avere la fortuna di avere una maggiore quantità di informazioni, quindi una pluralità di informazioni. In questo caso viene richiesta appunto tutta questa fase di elaborazione e di filtraggio, interpolazione e clusterizzazione che ora vedremo, fino al trasferimento alla macchina operatrice. Tutto questo io suggerisco sempre di farlo in compagnia o comunque con un consulto dell'agricoltore che magari conosce il terreno e che ci aiuta a capire se stiamo percorrendo una buona strada o stiamo andando verso parti teoriche che invece magari sono un'aberrazione data dalla statistica e dalla interpretazione della fusione delle mappe. Questa per esempio è un caso di utilizzo diretto della mappa, perché in questo caso da una mappa di meggio elettrica si è ottenuta una interpretazione della possibile alta resa o bassa resa del campo e questo poi è stato verificato appunto dalla vera e propria, dalla raccolta. Va bene, questo possiamo andare avanti. Ecco, allora, visto che, come dicevo prima, un caso più interessante è quello della fusione di più informazioni, non quando abbiamo una sola informazione, ma quando abbiamo più informazioni, in quel caso subentra una parte di trattamento dei dati, che viene detto data mining, e che prevede diversi passaggi obbligatori, per esempio l'ordinamento dei dati, l'intercettazione dei valori anomali, cioè gli outliers. Questa non è una cosa da poco, perché è una, per esempio, una mappa della resa di questo tipo che è proprio quel campo che ho mostrato prima, in cui c'è un'area sofferente, che è questa zona qua, e mostra però anche dei punti in cui sembra non aver prodotto nulla. Queste, per esempio, sono aberrazioni date dal sistema di raccolta, perché la trincia all'inizio non ha una quantità raccolta sufficiente da calcolarne il peso. Quindi apparentemente per quel punto geolocalizzato sembra non esserci una raccolta. Questi sono casi estremi di outliers, ma ce ne possono essere, a volte appunto nelle voltate o in diverse manovre, quindi bisogna comunque escluderli dalle elaborazioni. Fino ad ottenere, poi, una semplificazione della mappa di questo tipo, cioè una distinzione di mappe omogenee dove poter operare la distribuzione ratovariabile. Un altro punto critico è quello della clusterizzazione. Se io ho tante informazioni, ho bisogno poi di creare delle zone, appunto, omogenee. Come faccio? Attraverso una tecnica statistica che prevede la preparazione di gruppi di oggetti tali che gli oggetti siano simili tra di loro. Però, per esempio, qui ho preparato una schematizzazione molto semplificata di questo fenomeno. Se io ho questi sei oggetti, che hanno un certo colore, una certa forma, io posso scegliere, per esempio, due cluster, dicendo che ho bisogno di distribuire due dosi di concime e quindi chiamo in causa parti di terreno differente che vengano così raggruppate in due gruppi. Ora, se invece le dosi di concime fossero tre, gli stessi oggetti non andrebbero a incontrare gli stessi oggetti della precedente clusterizzazione, ma sarebbero accorpati in gruppi differenti. Ora, questa è un'estremizzazione comunque del fenomeno, ma fa capire come la distribuzione di questi oggetti dipende anche dal numero di cluster che noi scegliamo e quindi dal numero di dosi in quel caso. In realtà, la situazione è molto più complicata, cioè ci sono tantissime, chiaramente, coordinate di punti e tante informazioni. In questo caso, il procedimento statistico individua quelli che vengono detti centroidi, cioè dei punti che raccolgono informazioni simili e assimilano a questi centroidi le varie coordinate. Allora, vediamo un po' nella pratica cosa accade. Nella pratica succede questo. Per esempio, un campo, uno dei nostri campi, o uno dei vicini comunque, analizzati, ha dato tutte queste varie informazioni. Quindi, ognuna di queste mappe è una mappa, per esempio, dal drone, oppure una mappa satellitaria, una mappa della resa, eccetera. Tutte queste devono confluire in un'unica e può essere interpretata da una clusterizzazione in tre gruppi, in due gruppi o in quattro gruppi. Quindi, immaginiamo di scegliere la clusterizzazione in tre gruppi, otterremmo una mappa di questo tipo. Ma non finisce qua, perché anche se ottengo una mappa ben definita, come dicevo prima, questa mappa deve essere adattata comunque alla larghezza di lavoro ed anche alle linee guida. Quindi, non è una mappa, come per esempio questa che ho realizzato, che ha delle forme curve molto ben definita, diventa quest'altro tipo di mappa, dove la larghezza di lavoro incide nella definizione dei contorni da distribuire. E non finisce ancora qua, perché la mappa di prescrizione applicata poi dalla macchina avrà un effetto di questo tipo, che è legata alle manovre dell'operatore e quindi ci saranno degli errori legati alle manovre, agli slittamenti e a piccole eventuali sovrapposizioni. Infine, possiamo applicare anche lo smoothing, che è un'altra tecnica che affina e cerca di avvicinarsi alla larghezza di lavoro già prima di consegnare la mappa alla macchina. Queste sono le linee di lavorazione, cioè le linee guida, che sono quelle linee che l'operatore sceglie per la conduzione dell'operazione, nella guida assistita e automatica, subentrano nel disegnarsi parallelamente sul display. Questa, per esempio, è lo sviluppo di una mappa di prescrizione da quel campo che vi avevo mostrato all'inizio. Come poi, una mappa come questa, che è quella fornita da un'elaborazione al PC, si trasforma in questo tipo di mappa, proprio perché deve seguire le linee guida e la larghezza di lavoro, e poi si trasforma in questo tipo di distribuzione. Abbiamo scelto questo campo perché particolarmente articolato, offriva molte complicazioni in termini di manovra e quindi genera diversi errori. Questo, fra l'altro, si inserisce in un contesto di vericoltura 4.0 dove la trattrice non solo acquisisce la mappa di prescrizione, ma può abbinare alle informazioni su quanto sta facendo, anche relative, per esempio, alla velocità di avanzamento, al motore, ai consumi, ed è possibile quindi integrare alla mappa di prescrizione, alla mappa di attuazione della mappa di prescrizione, anche informazioni sull'efficienza di quanto è stato applicato. Va bene, questo ancora è un esempio di trasformazione da mappa di prescrizione, applicazione delle linee guida e della larghezza di lavoro, trasformazione in mappa, si chiama quota target, che sarebbe la mappa applicabile alla macchina operatrice, e quindi la mappa poi realizzata realmente. Dalla mappa realmente realizzata, però, possiamo ottenere ancora informazioni con un'elaborazione di smoothing per reinserirla nel ciclo delle informazioni, quindi essa stessa, che era la parte finale di un processo di elaborazione, diventa ancora una fonte informativa per un altro anno successivo, per una cultura successiva, che ritorna appunto in ciclo. Quindi, le conclusioni di quanto ho raccontato sono che la preparazione di una mappa di prescrizione dovrebbe prevedere l'elaborazione da diverse fonti informative, cioè, è vero che da una mappa singola io posso ottenere una mappa di prescrizione, però se per esempio mi basassi solo sulla resa dell'anno precedente, potrei non conoscere le caratteristiche intrinseche del terreno, quindi per esempio dovrei almeno abbinare delle informazioni del terreno, da analisi oppure dalla lettura geoelettrica. Prima di una fertilizzazione sarebbe opportuno conoscere qualche indice spettrale, quindi per esempio l'NDVI da drone o da satellite. L'ideale è fondere queste informazioni per impreziosire la mappa di prescrizione che potrà essere sempre più consistente, più corrispondente alla realtà. E poi non è necessario avere una definizione, una risoluzione elevatissima della mappa di prescrizione perché comunque poi andiamo a scontrarci con quello che è la realtà e quindi la larghezza di lavoro della macchina. Preparare una mappa di prescrizione centimetrica poi cozza con la capacità della macchina di distribuire quel tipo di mappa. e operare con più mappe costringe alla risoluzione più bassa di tutte, per esempio appunto quelle satellitari in generale hanno un impatto nell'abbassare la risoluzione. In ogni caso la larghezza di 10 metri per 10 metri non è comunque una risoluzione bassissima perché a volte può corrispondere anche a una larghezza di lavoro. Il trattamento degli outliers è sempre una operazione molto delicata quindi nessuna per adesso di queste operazioni può essere resa totalmente automatica perché va curata nello specifico e vanno ragionati gli outliers. va definito anche il peso di ogni singolo layer anche se i programmi di statistica aiutano a capire quale offre una maggiore o minore variabilità e quindi quale parte può avere un maggiore o minore peso comunque l'operatore può dare il suo peso e quindi imporre che alcune per esempio gli indici spettrali che serviranno per la distribuzione della fertilizzazione possono avere un peso in quanto sono più recenti nei confronti dell'evento che deve accadere. E poi l'esperienza appunto di chi ha la consapevolezza del campo è preziosissima perché aiuta a capire quanto siamo vicini alla realtà. Infine, non esiste una mappa universale ma ogni operazione ha bisogno della sua mappa cioè non basta neanche avere una mappa per l'intera stagione ma dipende dalla finalità che vogliamo raggiungere se si tratta di una distribuzione di un concime o se si tratta per esempio di una semina non può bastare preparare una sola mappa proprio per questo motivo non basta una fonte informativa ma bisognerebbe appunto raccoglierne diverse. Ora ho comunque preparato le slide in cui ho mostrato anche delle esercitazioni che abbiamo preparato quando a Treviglio abbiamo delle visite di studenti perché è interessante come può diventare un evento anche didattico la preparazione di una mappa e la prepariamo appunto in diretta quando all'interno per esempio del piazzale prepariamo mappe molto molto semplificate come queste specie di triangoli e disegnandoli si capisce subito come applicandoli alla larghezza di lavoro e alle linee guida si trasformano queste forme semplificate in forme con dei pixel proprio perché devono necessariamente essere svolte poi in questo modo dalla macchina. Quindi in questo caso un'irodatrice con della semplice acqua viene azionata seguendo le mappe di prescrizione che prepariamo in aula e poi appunto la macchina inirodatrice seguendo le linee guida che sono parallele cioè le linee indicate dal display che sono parallele alla linea guida operano in questo modo e questa è la mappa di realizzazione della distribuzione a due dosi diverse di liquido quindi qui a minore densità e qui a maggiore densità e si può vedere bene come appunto nel percorrere la linea guida l'irodatrice abbia acceso prima le sezioni sulla destra e poi solo successivamente abbia accenato le sezioni sulla sinistra questo anche perché un ultimo punto che può fare la differenza nell'applicazione della mappa di prescrizione può essere la definizione delle sovrapposizioni delle percentuali di sovrapposizione cosa vuol dire? vuol dire che l'irodatrice che nel nostro caso aveva quattro sezioni accendeva o spegneva gli ugelli della sezione solo se aveva coperto il cento per cento della superficie quindi per esempio questa sezione si è spenta solo dopo che l'ultimo ugello si era sovrapposto con una passata precedente se invece avessimo impostato questo tipo di settaggio al 70% avremmo avuto questo effetto cioè questa sezione della barra erodatrice si spegne solo quando il 70% della barra si è sovrapposta alla passata precedente ancora avremmo potuto imporlo al 50% quindi vuol dire che questa sezione si sta spegnendo perché ha raggiunto il 50% e ancora per esempio in questo caso solo quando ha raggiunto il 20% è chiaro che più basso è la percentuale di sovrapposizione più abbiamo un risparmio di input che stiamo immettendo e quindi abbiamo anche una maggiore sostenibilità dell'operazione agricola però è anche vero che dipende da che tipo di operazione stiamo eseguendo per esempio se fosse un trattamento contro un agente può darsi che una parte della cultura resti scoperta proprio perché si creano delle chiazze non coperte dal trattamento bene lo stesso tipo di esercitazione a volte la sviluppiamo con lo spandito in cima in questo caso poniamo nel piazzale dei recipienti che permettono di leggere la differente distribuzione come si può vedere le due aree sono state coperte in maniera perfetta dal sistema di distribuzione ratovariabile con delle piccole vabbè con dei piccoli errori soprattutto nella fase terminale dove può anche darsi che sia il sistema di lettura che abbia prodotto qualche dato errato bene io con questo ho concluso vi ringrazio per l'attenzione e presto disponibile se ci fossero domande anche a questo indirizzo di posta elettronica in cui mi potete contattare tranquillamente grazie da casa se avete domande potete scrivere in chat sì siamo arrivati anche puntuali sì siamo arrivati anche sì interessante grazie può non essere sufficiente poi già è un bel aiuto sì 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 tutti i tipi di mappe possono essere valorizzate comunque la sole è chiaro hanno il limite della singola informazione quindi se si uniscono con altre allora cominciano a dare un quadro più completo è come se dell'ambiente prendessimo solo la temperatura e non l'umidità no? è vero è comunque un'indicazione ci dice che ci sono delle zone dell'Italia più calde zone più fredde però l'umidità l'unione dei due fattori impreziosisce comunque l'informazione e dà la completezza dell'informazione è una concimazione dalle varianti quali sono i dati più più importanti cioè più contenuti quali sono i dati più importanti è chiaro che allora la concimazione sicuramente si può basare sullo stato della cultura perché è come se avessimo un bambino che non ci sa raccontare ma si esprime un po' per gesti o per per suoni allora in quel caso prestiamo attenzione a cosa vuole e lo accontentiamo allora la lettura degli indici spettrali quindi il drone il satellite la multispetrale ci dà una percezione più chiara di quello che è la variabilità sulle sono potrebbe già essere sufficiente però non ci aiuta a capire il motivo per cui quella parte di terreno sta soffrendo quella parte di coltura sta soffrendo quindi sarebbe meglio avere anche informazioni relative al terreno per esempio la lettura geoelettrica in questo modo si può capire perché quella parte perché se noi accontentassimo si misura si misura e gli strumenti sono quelli che ho mostrato che sono quelli della dell'emissione del campo elettrico del campo elettromagnetico nel terreno con quelle con quei carrelli si chiamano anche metodi ARP di trasmissione del campo elettrico elettromagnetico letti da altre parti della macchina si chiama mappatura geoelettrica e questi sono servizi prestati in genere i macchinari costano parecchio si noleggiano e questo può costare ecco perché ancora io l'ho visto utilizzare anche noi stessi l'abbiamo usato soltanto a scopo sperimentale e abbiamo speso anche sui 5.000 per l'azienda l'azienda di 10 ettri 10 15 ettri però sono dei prezzi un po' sperimentali non so se su larga scala abbiano dei prezzi diversi non è facilmente proponibile e non è molto se si pensa che non è che fa un'azienda centrale può più riuscire tutta perché perché la fonte satellitare non ha un costo perché è gratuita sono delle mappe che ormai non è neanche più complicato scaricarle perché seppur pesanti ma comunque le reti ormai riescono ad ottenerle si possono scaricare anche durante la notte quindi al mattino si ha una composizione di mappe e sono sì allora i due satelliti Sentinel passano sopra le nostre teste ogni cinque giorni ogni loro passano ogni dieci giorni ma sono spasati di cinque giorni quindi il Sentinel A passa prima poi passa dopo cinque giorni il Sentinel B e e danno queste queste mappe assolutamente gratuite e in più possono andare indietro nel tempo cioè si può richiedere una mappa per esempio di due tre anni fa o di tutta la stagione scorsa e è vero che il loro limite però è anche un po' la a parte la risoluzione va bene dei dieci metri per dieci metri ma anche l'eventuale presenza di nuvi che di nuvole perché se ci sono nuvole che si interpongono è chiaro che il satellite non può leggere quindi io stesso per esempio ho fatto un po' di studi e su alcuni terreni per esempio per un mese sono riuscito poi a scaricare tre o quattro mappe però è tanto comunque in ogni caso cioè magari si chiama strumento che è il metodo si chiama ARP non c'è uno strumento vero e proprio cioè ma si chiamano elettromagneti sì elettromagneti ci sono quelli elettromagneti non non entrano neanche nel terreno questo qui invece che è un metodo ARP ha delle ruote con dei denti che entrano nel terreno però non ha un nome cioè si chiama metodo ARP però non so se non so se è proprio in vendita sono sono dei metodi dovrei vedere un po' noi abbiamo acquistato il servizio per esempio non abbiamo acquistato lo strumento sì 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 è una ditta non ce ne sono tante io non ho acquistato non abbiamo acquistato il nome è una razza molto e poi a questo punto è una ditta che 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 è una ditta è una ditta che si percepisce che il la differenza in cui già può avere il suo peso ecco per esempio nel campo che ho mostrato quella parte sofferente è una parte che è sofferente proprio per lo scheletro invece non tanto per la testitura ma per lo scheletro eccessivo che c'è allora in una situazione del genere se io osservassi soltanto gli indici spettrali rischierei di voler accontentare quella parte perché la trovo sempre un po' più ingiallita no? allora ecco per rispondere anche alla domanda di poco fa se io mi basassi solo sulla lettura multispettrale rischierei di andare a inquinare di più perché rischierei di intestardirmi a dare molto più concime in quella fessura in quella zona lì che probabilmente era stata causata da un fosso di irrigazione e quindi è pieno di scheletro e immetterei sempre input e input e input che andrebbero direttamente nella falda quindi se io usassi come fonte soltanto la multispettrale rischierei di avere una mappa perfetta ma che andrebbe al contrario rispetto alla sostenibilità perché sposterei anzi tutti gli input su quel punto quello è proprio uno di quei casi invece in cui se io ho la conoscenza di ciò che è nel terreno posso essere frenato dall'andare in quel in quell'errore perché direi allora no so l'origine del perché quella zona è sopperente ed è causata dal fatto che c'è una elevata o sabbiosità o un'elevata quantitativa di sabbia o un'elevata scheletro e allora mi fermo prima e dico no quella parte piuttosto soffra a prescindere perché non posso non potrò mai accompagnarla con una sufficiente fertilizzazione e mi sposterò sposterò l'attenzione e l'input sulle altre parti adiacenti magari quella parte resterà a questo punto ancora più indietro per questo a quel punto si può passare invece a un programma di bonifica del terreno si migliora il terreno si tolgono si toglie l'eccesso di scheletro questo è per rispondere un po' a quello che dicevamo no è vero il multispettrale dà un'immagine immediata è come se traducesse i lamenti di un bambino appunto in una richiesta di cibo espressa però perché comunque questo bambino continua ad avere sempre fame magari c'è un problema di base va curato in qualcosa quindi anche lì nella cultura come mai questa parte mi chiede sempre di essere di dargli input mi devo fermare perché altrimenti se accontento questa situazione rischia invece di andare da tutt'altra parte grazie va bene grazie a tutti arrivederci